L'appello è al governo affinché mandi dosi necessarie per raggiungere l'immunità di Greggio, cioè l'80% della popolazione vaccinata in Abruzzo, ma i numeri parlano chiaro. Mentre la variante Delta corre, la necessità è di far presto per i richiami e per immunizzare la fascia dei giovani, perché attualmente quella più a rischio è rappresentata dagli under 19. C'è da tener duro sino a mercoledì a quanto pare, perché sono in arrivo 36 contenitori di Pfizer per 42.120 vaccini in totale. Nella Asla dell'Aquila, ad esempio, come conferma il dottore Enrico Gian Sante, direttore del servizio gene, epidemiologia e sanità pubblica, nella giornata di oggi in provincia sono previste 3.600 vaccinazioni in totale e nella giornata di ieri gli utenti sono stati ricontattati anche telefonicamente per assicurare la presenza e non sprecare nessuna dose. In provincia dell'Aquila non ci sono tantissime scorte, spiega Gian Sante, ma sono arrivati i vaccini Moderna con il meccanismo del mutuo soccorso da Teramo e la speranza ovviamente è che arrivino presto altre dosi per non interrompere una campagna vaccinale che comunque fino ad ora è andata spedita. Anche le Asla di Chieti e Pescara sarebbero agli sgoccioli. Alla regione occorrono un milione di dosi per arrivare alla copertura dell'80%. Fino ad oggi su 1.400.000 dosi arrivate ne sono state somministrate 1.250.000 e all'Abruzzo si chiede comunque di avere un target di 11.000 somministrazioni al giorno. Facendo i conti, appaiono insufficienti le dosi. La cosa che maggiormente preoccupa è il ditta del commissario Figliuolo sul mondo della scuola. C'è un 20% di persone non coperte perché essendo il vaccino facoltativo non ci sono neanche degli elenchi e quindi il lavoro di ricerca da mettere in campo sarebbe enorme. Il coordinatore della campagna vaccinale in Abruzzo, Maurizio Brucchi, sostiene che si sta facendo davvero il massimo. Questa è una cosa che ovviamente non dipende dalle Asla, quella dei rifornimenti, ma chiede al governo Brucchi di mandare le dosi necessarie perché la regione vaccina molte bene ma il discorso è sempre legato ai quantitativi di dosi. Anche tra Asla ci sarebbero poi delle differenze. Nella Asla dell'Aquila, ad esempio, e come conferma lo stesso Gian Sante, si sono anticipati e si stanno anticipando i richiami per non lasciare caselle vuote. Stessa cosa a Teramo e parzialmente a Pescara, mentre Chieti seguirebbe un altro binario.